Ciao, allora volevo farti vedere i nuovi ferri Century, eccoli qua. Sono dei ferri in alluminio a doppia barbetta, eccolo. La caratteristica carina è la parte, quella che viene a contatto con lo zoccolo, che come si vede, questa parte qua è lucida, quindi permette un bel movimento dello zoccolo, quindi l'elaterio qua avviene senza nessun problema. Questa parte qua è grippante, così rimane ancora più saldo allo zoccolo, questa parte è svasata, e le doppie barbette sono belle arretrate, così si può portare indietro il ferro. Qua c'è un salvapunta in acciaio inserito dentro, a filo, eccolo. Questa parte qua è svasata, e qui sui talloni, i talloni sono leggermente a cipolla. Un'altra caratteristica bella di questo ferro, che con questo salvapunta in acciaio bello robusto, quando gli si dà un colpo a stringere, la punta continua a rimanere larga, e questa è un'idea che sicuramente sarà molto apprezzata. Ecco, in questo momento, in casa, abbiamo le misure che vanno dal doppio zero al numero due. Con questo è tutto, grazie, ciao!